Fa ancora una virata, diventemente ritiene di essere alto, conosce alla perfezione l'efficienza del suo mezzo, quindi compie anche qualche piccolissima, ha i freni quasi a zero, braccia molto basse, vedete il bordo di uscita del parapendio piegato, rallenta al massimo e arriva quasi a toccare il centro, buona comunque la sua prestazione. In Pugana, in Cino Centro.